Ieri va della giornata, razzarimmo un'eridate, con bravure io talvis, la mia tua parinti amici, tutti insieme in vecchiazzute, ascoltarimmo un'estoriute, conti in succemo stidì, ogni dì si fa scossì, tutti i miei dovranno urlare, non sta pieni di papà, non sta la lontan, lontan, sta fermi a chiara la mamà, tutti i miei dovranno urlare, non sta pieni di papà, non sta la lontan, lontan, sta fermi a chiara la mamà, e non sta la lontan, lontan, sta fermi a chiara la mamà. Frus, è arrivato, signor Timp! Voi altri non potete nemmeno immaginare cosa sta per succedere, Sì, non pensai so che Timp! D'aù, quanto colì a ieri è stato, o se è stata a fare un viaggio in Argentina, parlare a chiara i miei amici, autun e invier, che da quel momento si è ritrasferito l'aiuto, sì? Oh, un po' bene, signor Autun è tornato a casa di un poco, ma proprio a voi mi è arrivata una lettera di signor Inviere, che mi dice che anche lui ha la daura a tornare, e che arriverà a casa di una settimana, io non sto proprio a tecchiamese. Ho accoruto finché per poter visare per tempo, Daria e Chiara, ho avuto di organizzare insieme alcuni speciali per dare il benvenuto ai nostri amici che tornano a casa di noi. Dio, manco il tre, più due, nulla. Ma ce ne esiste un? Non si ha di fare la sottrazione? Io avevi capito che... Ma sto sentito anche tu? Sì. Ma qui vuoi distrucare il sedico, ma sarà il picco che vi è sull'arbor di mamma. Forse tu hai ragione. O stavi disistendo... Daria, Chiara, stai in casa? Ma qual è il picco picco? Questa è la voce di Sir Tim. Daria, Chiara! E al parante io ne vorrei agitare. Ma andi, Sir Tim! Ma cosa succede? Ben so... C'è succede? C'è succede? C'è succede? C'è succede? C'è succede? Ma che non spiega? E non ci ha dovuto capire? E si chiede? Ma che... Oh! 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 Ma... Ma che succede? Ti alziamo un tasto! Sì, a chi? Al sta... Al sta... Per... Per... Per arrivare... Cui? Sio... Sio... Inviare... Sio Inviare? Al sta per arrivare a Cadino? No... Tutta questa confusione per dare queste buone notizie! Ma stop, sio Team! Tu puoi dire prima! In effetti lo stavamo proprio te spietando! Non sarà magari un... Sti al di noi! Ma lei è un vero simpatico! Quando dovresti arrivare insumis? C'è una settimana ho vinto poco tempo per poter organizzare una festa di benvenuti come che io voglio! Sio Team! Ma tu! Tu hai tutto il tempo all'esposizione! E sta qui è! Non sta preoccupati! Io e Chiara ti aiutano a organizzare la migliore fiesta di benvenuti che ci puoi desiderare! Sì, Sio Team! 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 Sul Zige Tamè con la mia scurita.... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, tranquilla, Daria. O stavi dorme scherciando. Arrivarà anche l'istante. Ma a proposito, come ho che pensi? Non vorrei non migliare di smentare la musica. Darci tu, vuoi che mai esiste una fiesta e caccia musica? Oh, tranquilla. 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 Il fredda da frittulis di carnevai Che il siorut cui pistam frez E tes mans glaciasi des All'ientra in chiaze par schialdasi Donnie il fu calpo est disfasi Cum manecis sulis mans E in tordo i viei gabans Alfas bielis diaminadis Par puartanus nebeadis Alas crisuntus fuegut Dio sui inviare o goi guardu O quarti ne fin fredda da Frittulis di carnevai Alas crisuntus fuegut Io so inviare o goi guardu O quarti ne fin fredda da Frittulis di carnevai O quarti ne fin fredda da Frittulis di carnevai Fasim un giug Vi odin Se os esbojns di induvinar Qua e ca sontra cest Io ghezca puedin coventar Par faune fieste In dis seconz Se so prontz Allore Vier Io ghezca puedin coventar Par faune fieste Assom cest Ve bisuinduvinar Bravs Induvine induvinar Alla inviare Devan di me Alla un riul inglacciato Di che altre bande dal riul Alla un arbol di chiariesis C'è mutfasio Atchiappasuli chiariesis In nessuna maniere Par c'è che Dis chiariesis No crescing in inviare La di dopo Ho comprato un acquario Vielo non La femmina I domande al suo Amor Hasto cambiate L'agre ai pes No Non c'è bevuto Che dia Sesso bojns di fevela Par furlan Inviate un vuestri video Indulà che nos mandai Su un pensier Un e tiancion Un e barzalete Un e conte Par furlan O un vuestri diseni Lì che si vio Di un momento In particolare Di un e puntade Di mamma Mandait al numar 333 72 02 Vot Un 4 Oppure A direzione Di queste elettroniche Mamma Caiut TVstar Pop Com Occhio Il telefonuto Al vatignut In orizzontale E no In verticale Occhio 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 Il simitro De scuole Di ville E il baruzino Per queste In fine ore Qualcuno Arriva Col pultino E dopo Tutti Tall'altra Si chiedevi A comprare L'azienda e dopo si va in classe per imparare. In calco i lettori 50 e 50 bravini e per pasta i disegni intanti con i uns. Le ricreazioni e ielle materie fluibile anche se facendo diventavate le bidele. Il prossimo anno non saranno più cà perché i spazi non stocchi lì. Manca! Non dico che resti in ca diventando voi di imparare video se storie sulle linee cialinte tanti slovi su di cifacin ma qualche sulle campanelle di furti corse da tutte le scuole. Manca! Il chiesce non sarà sui mani dalle sardine anche se fanno i simplici sportini. Se a gruppo si isolaboli le rispecce migliori piatini. Maman! In secorde in corsi iscrivim e le stabilite sa memoria in pari nusplasla i dite in palestre scontai la vola pura maestre Maman! 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 liste e a radunare tutti gli srobis che non scoventeranno per organizzare la più bella fiesta di benvenuti che si può desiderare. Sono così contenta di poter fare tutto questo insieme a loro, anche se chiaramente mi ha aiuto e di confessare che io non sopporto anche il freddo. E per la verità non vedo l'ora che torni l'istate. Shhh, non sta a dirlo a nessuno eh? E anche altri frutti, mamma! Siamo in tecchiazzutte, ascoltarimu'ne storiute, conti in sups e mosti di. Ogni dì si fa scossì! Tut plui bied o gran fulan, non sta a pierditi papà, non stalla lontan lontan! Sta a fer piacchia la mamma, tut plui bied o gran fulan, non sta a pierditi papà, non stalla lontan lontan! Sta a fer piacchia la mamma, non sta a lontan lontan! Sta a fer piacchia la mamma!